Comercianti a dischi ha già lavoro per programmare le manifestazioni che ormai sono di impatto e sono diventate pietre miliari nel panorama delle offerte turistiche del nostro territorio. Parliamo uno per tutti, Lucio, dei Borghi in Festa. State già programmando questa edizione di quest'anno? A me lei addio al vero noi siamo partiti e non abbiamo perso un giorno, così come nell'ultima intervista che avete fatto che avevamo promesso di non perdere neanche il giorno. Siamo partiti già dall'anno scorso a fine estate, Borghi in Festa si è completato a fine settembre, fortunatamente è stato un successo fino a fine settembre. Non ultimo è stato un successo anche nel primo natalizio, abbiamo fatto un'edizione della festa del cioccolato, a me purtroppo non ci aspettavamo neanche noi, però dagli errori, dalle esperienze poi sicuramente in seguito partiremo con cose migliori e superiori. Quest'estate, già prima nell'intervista di Civo, stiamo cercando di addirittura triplicare gli appuntamenti, quindi si parla di mercoledì a Casamicciola, venerdì a Ischia Ponte e domenica interesseremo tutta la zona centrale di Ischia partendo dal Platano fino all'incrocio di San Ciro, tutta la zona dell'area destra via Roma e Corso Vittorio Colonna. Questo nel periodo che va da giugno a settembre, nel periodo di orario dalle 9 di sera fino a mezzanotte e la mezza. Perché stiamo facendo tutto questo? Perché secondo noi anche nel periodo che, come si dice, l'estate è alta, vediamo delle carenze di divertimento da parte delle persone, in più fortunatamente siamo in dialogo, voglio solo aprire e chiudere questa parentesi, con le altre zone dell'isola, cioè il giovedì è già rinomato a Forio e il sabato quelli di Laccameno stanno organizzando qualcosa. Quindi quest'anno, giugno-settembre, dal mercoledì alla domenica ci sarà sempre qualcosa di importante. Poi ovviamente le altre serate sono sempre piacevoli in tutto il periodo, però qualcosa di importante sull'isola c'è, il turista quindi può godere di un divertimento sicuro in questi quattro mesi. Questa è una cosa importante che io ci tengo a portare avanti, non solo per le serate in sé per sé, ma noto in queste ultime due edizioni di Borgo in Festa. Quest'anno andiamo nella terza e ti ho detto stiamo triplicando, un'unione fra i commercianti. Si sono creati dei direttivi a Schiaponte, lo stiamo creando a Casamiccio, lo stiamo creando adesso nella zona qua, quindi figurati un po' nella zona che comprende via Iasolino, dal Platano fino alla parte bassa di via Alfredo De Luca, la riva destra, via Roma e Corso di Torevano, là addirittura stiamo creando un direttivo che però deve racchiudere un rappresentante o addirittura due rappresentanti di ogni zona, quindi sarà un direttivo anche là abbastanza corposo di persone, dove poi ci andremo a incontrare una volta a settimana. Da questi incontri sicuramente poi nascerà un qualcosa di diverso in seguito, perché come dire, quando si traccia una strada puoi realizzare le altre cose, è molto più semplice, l'abbiamo notato e queste cose sono un buon aspicio per l'isola.